ciao lilli tu sei una nostra cliente affezionata ormai da due anni acipicchia senti lilli abbiamo bisogno di sapere dai nostri clienti che cosa ti fa scegliere john fitness rispetto ad altre palestre benissimo quindi non la cambieresti benissimo senti un'altra domanda la consiglieresti ai tuoi amici perfetto quindi siamo contenti intanto di soddisfare tutti i giorni le tue aspettative ti ringraziamo e ti salutiamo